Cari follower, come aprire la calza con i vostri bimbi? 1. Aprite la calza Kinder. 2. Capovolgete. Mmm, Kinder buono, sorpresa, cereali! Calze Kinder! Sono tutte buonissime! Quando scocca l'ora della Befana, tutti la vogliono, tutti l'aspettano! Sì, ma non aspettate troppo, eh! Regalate la calza Kinder! Che varietà! Con buono, sorpresa, cereali, piace a tutti! E tu cosa aspetti? La Befana?